andiamo a controllare se ne ha fatto altri cuccioletti non passate più o meno due ore e mezzo dal primo e addirittura due due insieme sono tutti e due bianchi bianchi tutti e due bianchi 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 hai visto doppietta che bello l'orecchio nero e l'occhio nero fantastico questo totalmente bianco fa vedere tutto bianco 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 bellissime veramente belle come la va ilary fantastico buon anno buon anno buon anno buon anno buon anno Grazie a tutti.